Qual è la partita di Borriello? Noi cerchiamo, io cerco sempre di Ronaldinho, lui mi cerca e poi queste cose saltano fuori. Hai ritrovato lo spirito del Milan, proprio nella partita più importante, questa è una grossa fiducia per il futuro per voi. Sì, ma non penso che abbiamo trovato lo spirito oggi, penso che questa squadra venga con questo spirito già da un po'. Da quando abbiamo vinto col Zurich in Coppa UEFA si vede la squadra in una crescita costante. Oggi abbiamo dimostrato contro una squadra molto forte che è l'Inter, quindi questa squadra è nella strada giusta.